Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. La Juventus ormai non ha più pace. Kine e Gravina continuano ad attaccare la Juventus e pesantemente deferita la Juve per il caso stipendi. Io lo voglio ancora dire, questa è ancora un'altra ingiustizia, questa è ancora una cosa grave nei confronti della Juve per distruggerla. Solo un modo per distruggere loro. Abbandoniamo questa Serie A, abbandoniamo questo calcio, andiamocene via da questo calcio perché è l'unico sistema per farli fallire. Approfondiremo questo discorso perché dobbiamo vedere per bene quello che può succedere alla Juventus, un processo che si farà a giugno, ancora un altro processo. Sono sempre qui per difendere la Juventus e vi invito come sempre, iscrivetevi al canale perché è gratis e sono qui il giustiziere della Juve. Lasciate un like, commentate e attivate la campanellina così non vi perderete mai un video e siamo sempre. Live! Lei si è tenente in mente, madame, messia il signore e il signore, i miei signori, quelli per i quelli, i cobi bianconieri della vecchia signora, rieccoci qui. Un giorno sì, un giorno. Ormai si sono messi in testa di fare fuori la Juventus. Non c'è alcun dubbio perché si stanno inventando processi dove la Juventus non ha commesso reati. Facciamo un sunto velocemente di quello che la Juventus ci sta subendo. Caso plus valenze, lo ricco e lo ripeto, non è reato, ma ci vogliono condannare. Caso stipendi, la Juve riceve complimenti cinque anni fa, l'avevo già detto, che la Juve si dimezza gli stipendi, rateizza gli stipendi. Oggi diventa addirittura un reato. Questa è una cosa grave, ancora di un'ingiustizia contro la Juventus, del signor Chinè e della FIGICI. Hanno deferito la Juventus e i suoi ex dirigenti, Agnelli, Nedved e Combani. Vogliono farci ormai fuori. Ormai si sono messi in testa che non vogliono farci giocare le coppe il prossimo anno. Hanno tirato fuori ancora una volta l'articolo 4. E ripetiamo, stipendi come plus valenze. Signori miei, l'articolo 4 non può essere tirato fuori, ma loro lo fanno. Perché loro vogliono la nostra testa. Noi dobbiamo abbandonare. Basta non scendere più in gambo. Se questo è quello che volete, noi non siamo schiavi di nessuno. Noi lasciamo questa serie A. Perché tanto, signori miei, parliamoci chiaro. A che cosa serve giocare in un campionato dove dobbiamo sottostare a queste ingiustizie? Dove dobbiamo essere gli schiavi di gravina della FIGC che comanda un kinè che ci fa fare la fine veramente del topo. Dieci gatti contro un topolino. Ci hanno fatto diventare a noi un topolino. Noi che eravamo delle tigri. Ma la colpa e la grande colpa la posso dare a una persona. Che non ci sta difendendo. Che si sta nascondendo. Che non parla. Non contraattacca. Ed è soltanto uno. A me dispiace dirlo. E John Elkan. Carissimo Johnny, ma dove sei finito? Tu attualmente sei tu la proprietà. Il Barcellona è stato attaccato in Spagna. Ma il Barcellona controbatte e si difende pubblicamente. Come il Barcellona e tante altre società. Noi muti. Noi tifosi siamo rimasti soli. Siamo rimasti soli. Ma possiamo mettere soltanto la voce noi. Soltanto la voce. Possiamo sbuggiardare quando vogliamo. Ma ci vuole che si svegli John Elkan. Si vuole che si svegli. Le massime cariche della Juventus. Queste tre figure. Queste tre figure che ci sono. Da Ferrero, Scanavino, Calvo. Ma cosa stanno a fare lì? Ancora con questo stile? Con questa cravattina tutta lucida? Tutto che fanno? Alla Juve serve gente che difende. Alla Juve serve gente che si mette anche una magliettina. Va lì e va a fare bordello in tribunale. Va a fare casino nella sede della FIGC. Ci avete rotto con questo stile. Ci avete rotto con questo... Di sentirvi altolocati. Ferrero tutto impupato. Calvo. Scanavino tutti con questi termini. Alla Juve serve che viene difesa. Alla Juve non serve tutto questo scicchi. Lo scicchi, sai cosa dovete metterlo? Lasciamo stare. Che è meglio. Sono troppo arrabbiato. Rischio poi di andare oltre. Perché sono pieno. Perché sono pieno e deluso. A parte da una parte dalla FIGC che sta facendo un gioco sporco contro la Juve che la deferisce ancora una volta e la porta a processo a giugno. Un processo cosa vuol dire? Che la Juventus tranquillamente se viene anche penalizzata di 5-6 punti più altri 8-9 ce ne danno la Juve non andrà in Champions. Voi mi direte però saranno punti che daranno nel prossimo anno. E la UEFA sa cosa dirà la UEFA. Gravina dice tranquillamente scusate Ceferin dice tranquillamente guarda la Juve è stata penalizzata perché nel caso stipendi ho fatto degli illeciti e io non la metto alla prossima Champions. E la frittata è fatta. E lì dovrebbe intervenire Elkan. E lì che dovrebbe intervenire Elkan. Va bene fate quello che volete io ritiro la squadra. Giocatevi la Serie A da soli. Morite di fame da soli. Restate 4 gatti. Restate 4 società fallite. Perché ci sono 4 società fallite tra le milanese e le romane piene di debiti. Giocate alla voi la Serie A. Vediamo chi vi segue. Vediamo se milioni di tifosi non seguiranno più la Serie A. per un anno. Ma abbandoniamo la Serie A. Abbandoniamo la Serie A. Facciamola fallire veramente. Non possiamo più sottostare a tutte queste vergogne. Perché siamo stanchi e siamo stufi i nostri tifosi. Un processo dopo l'altro. Un processo dopo l'altro e la società Juventus si muta, zitta. Non controbata o non fare un comunicato. Come fanno le altre grandi società. Noi ci siamo trasformati da tigri in pochi anni a topi. Per colpa di chi non ci difende. E siamo solo noi qui tifosi. A difendere, a prendere parola per la Juventus. A cercare di difenderla contro ormai dei... dei... a satanati. A satanati di ingiustizia. Si stanno inventando di tutto per rafforzarci. Di tutto. Perché lo dico e lo ripeto. Lo dico e lo ripeto su caso stipendi. Hanno voltato loro la frittata. Perché fino ai cinque anni fa la Juve gli riceveva complimenti. Complimenti per quello che avete fatto. Sdimezzato gli stipendi oggi diventa il reato. Oggi dovete colperci. Oggi di mezzo c'è forse la Lega la Lega Serie A che viene comandata dall'UEFA per colpa della Super Lega. Se questo qua però lo dovete dire chiaramente. Dovete dirlo a noi tifosi lo dovete dire. Parlare chiaramente fin quando la Juve andrà avanti con la Super Lega verrete puniti. Bene, noi faremo una scelta. O andiamo via dalla Serie A di punto in bianco non parteciperemo più né Serie A né Champions. Pazienza. Per un anno rimaniamo fermi. Ci riposeremo. Ma sottostare a questa ingiustizia a me non sta bene. Perché sono stufo sono stanco da tifoso perché io investo soldi. Io ogni anno investo soldi. Ogni anno tra abbonamenti e coppe signori miei io pago per vedere la Juve. Io pago per sostenerla. Viene di conto che io pago per sostenerla. Ma la Juve non si segue con pochi centinaia di euro. Ragazzi per seguire la Juve uno deve spendere soldi. E spendiamo soldi e sacrifici che facciamo noi privatamente. Questa è la verità. e poi vederci trattati così dall'UEFA dalla FIGC da Gravina da Chinè e dallo stesso Elkan che è il nostro patron. E' quello che noi non riconosciamo come il padre della Juve. Così non va bene. Così siamo stufi. Così siamo stufi. Lasciamo questa serie A. Abbandoniamola. Lasciamola fallire a se stessa. Ma tutte queste ingiustizie qui devono finire perché siamo stufi. Non ne possiamo più. Non c'è pace per noi tifosi della Juve e noi non meritiamo questo. Non ci difende nessuno. Questa è una vergogna. Siamo rimasti tifosi abbandonati a noi stessi. Ma sarò sempre qui a difendere la Juventus. Fino alla fine forza Juventus io me ne vaio. O sta benedica a tutti i picciotti. Ciao.